amici miei ci ho messo un po' ma ho raccolto il teschio ho raccolto il teschio l'ho mezzo vagato qui c'è comunque un inferno però ho raccolto il teschio quindi due teschi raccolti andiamo qui quindi mi tocca mi toccano queste missioni qui adesso che cosa cazzo mi sono ridotto è letteralmente a 120 ripartito si ho poche munizioni ci sta buono qual è il piano ok ah ma dai sacchi di sangue che li devo pulire cioè che la devo due minuti non so voi ma non vedo un cazzo ecco no merda e vabbè ma come cazzo dove mai fare cioè se vi abbia tipo un anno a rende sciolta ok no merda baffanculo ah ma cioè che cazzo vuol dire mi risporo uno a 100 metri e mi va pure avanti ma è folia è folia è folia ma è assolutamente folia ma che cazzo dove mai fare non ha alcun senso non ha alcun senso ciao è completamente pieno di gente ma no 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 cioè assolutamente è qualcosa che non va perché perché ok tutto ma ma c'è un problema qui ok ok ma sono qua ok 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 madonna di dio che missioni dal cazzo veramente mindi la perfida davvero mindi la perfida io non ho nemmeno munizioni ma dove cazzo voglio andare dopo aver visto durante il caricamento destro di storia instagram di tutizio il mio paese con una pistola in mano possiamo andare avanti qui c'è del disagio allora uno uno oh no oh no una di quelle ho un paletto merda un paletto un paletto nemmeno gli ha fatto male ma hai cosa e poi che è o non è che mi serviva andando veramente a rifugio ho avuto da un parecchio che mi fa rispondere qui ovvio no devo andare al rifugio devo rifugio e devo rifugio perché non posso andare avanti tentativo numero due lo pezzo da qua ok ok no no devi ci sono quasi allora quando è invisibile non spreco i paletti merda ti prego ok no merda non gli faccio proprio un cazzo ok dovrebbe mancare poco alla sua morte ma perché al rifugio perché al rifugio Cristo prima mi ha fatto sbucare lì perché ero al rifugio puttana quella bucaia merda santo dio che gioco del cazzo vaffanculo no va bene sì ci vediamo dopo perfetto quindi dopo averla ripostata a zero ne abbiamo tre di teschi e da una potremmo anche già presentarci però no però no prima li raccogliamo tutti e sei quindi il piano per trovare gli altri rifugi è quello di mettere un segnalino più o meno a caso e avanzare dritti verso il segnalino nella speranza che prima o poi un rifugio arrivi merda non l'ho visto a prescindere da tutto questo rimane il migliore fucile da salto del gioco quindi quindi utilizziamo questo eeeh non so io volevo un rifugio più che altro fantastico un altro nido inquietante mi volevo volevo un rifugio eccolo che è culo è fuori dal nido uh guado guado tanto anche a noi usa a chiare il generatore del rifugio di io dove cazzo la trovo? io dove la trovo? lassù? no ha chiamato vabbè ovviamente il ricaricatore ok ti va di curarti? ok ok baffo ancora cazzo vabbè vabbè è lì che lì sangue è lì Grazie. Io da quanto tempo il microfono è muto precisamente, manco me ne sono accorto. Ottimo. Best youtuber in the world. Trovato la chiave era nel bagno lì su. Il generatore stava qui. Dai. Rifugio trovato. Perfetto. Quindi. Che cosa abbiamo qui? Che missioni abbiamo? Garanti di tocca un'altra. Ah no. Ah va bene. Usa il laser per chiedere. Vabbè. Andiamo. Andiamo. Andiamo lì. Andiamo. 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 Uh. Andiamo. Andiamo. le cuffie altri? credo di sì piccato sento spari piantata nel culo il 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 andava io la onde poi ha utile ma cazzo vuol dire anche ovviamente l'altro la ok ce ne puoi avere un quinto non sembra va bene andiamo all'altro dove l'hanno piazzato no ai coglioni ok ottimo altri richiepisco del casino no io intanto vi fatto la roba ok andiamo rifugio quindi allora voglio vedere i miei nuove questa mi sembra migliore del pompa questa no ce ne ho un'altra ma possiamo andare quindi ti benedica per aver reso sicuro questo posto spero che altra gente lo trovi va bene no un altro lo prendo ok aggiungi locandiere e chi cazzo è il locandiere? eh ovviamente è nel nido ma guarda madres ma c'era da aspettare il sel i mostri attingono potere da quel coso se ne becco qualcuno qui intorno sarà dura perché non è morta? perché continua a non morire? ok aspetta ma perché non è morta subito? in linea teorica sarebbe dovuta morire subito in linea puramente teorica via dal nido dai ti perco magari fuori di poco per magari fuori ehi cazzo voglio dentro dentro e proprio dentro ok ok no va bene va bene Gesù no 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 ok ok no 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 ama Gesù non mi ha nemmeno preso altro tentativo ogni volta far ripartire un video con sto gioco è un incubo merda 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 ti ho fatto del danno ok no ok curati ok vabbè ti prego però non mi fate mai i cazzi vostri tipo ho premuto ho premuto f 80 volte ho premuto f 80 cazzo di volte cristo dio non è possibile non è possibile non è veramente una cosa possibile non è immaginabile continuare a lavorare dopo aver sviluppato una cosa del genere cristo dio l'ho eliminato il locandiere c'è giù io me la devo ovviamente rifare tutta la capo ecco Insultare... il creato. Ok... Dove cazzo è? Vaffanculo. E' un maledio di un cazzo. Bene. Quindi. Ricapitoliamo. Abbiamo. Uno. Due. Tre. Quattro roteschi su sei che ne servono. Voglio dire che trovo il rifugio qui. E poi anche... Qui giù. Va bene. La nostra avventura è partita. Sì. La nostra avventura si svolgerà in questa direzione. Quest'arma è micidiale. Quest'arma è assolutamente micidiale. Oh. Va un po'. Sono fortissimo. Dire che sblocchiamo il nostro rifugio. Qui... Poi ci vediamo nella prossima parte. Ok. Guarda. Ancora? Non sembra. Ehm... Sta qui. Non sembra. Ok. 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 Ma come... Come fanno a prendermi così spesso io... Io non me lo so dove spiegare. Non me lo so dove spiegare. E' uno e un quarto. Devo... Devo rushare per finirlo oggi. Assolutamente. Non... Cioè lo devo finire oggi. Si. Sono felice a questo. Ha! Ha!